Siamo in arrivo a Sampia, con un ritardo di 29 militi, treni d'aria si scusa per il disagio. Siamo in arrivo a Livorno Ferraris. Siamo in arrivo a Givasso, con un ritardo di 34 militi, treni d'aria si scusa per il disagio. Siamo in arrivo a Brandizzo. Siamo in arrivo a Sampia, con un ritardo di 30 militi, treni d'aria si scusa per il disagio.